se questa è la prima volta che stai guardando un mio video ho deciso di farla finita nello scorso episodio di eudaimonious blog mi sono reso conto che sto dedicando tantissimo tempo a questo progetto su youtube e non sono contento di praticamente niente non mi piacciono i video che faccio non mi piacciono i risultati che sto avendo perché non ne sto avendo e quindi e quindi basta ora prima di affrontare questo discorso che probabilmente non riescerò neanche a finire in questo video vado avanti col lavoro per il quale sono venuto qua a verona dobbiamo installare dei parapetti su quella torre perché dovranno farci della ristrutturazione ora siamo arrivati a quel punto lì il parapetto lassù è quasi finito ma dobbiamo fare tutti i lati o meglio 3 lati non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A pezzi, un uomo finito, ma molto molto soddisfatto. Veramente figo, divertente. Grazie a Gino sto imparando un sacco di cose nuovissime che sicuramente mi serviranno. Sono proprio contento. Discorso, fine di questo progetto su YouTube. Credo che arriverò fino al video numero 200, giusto per avere un traguardo. Arrivo fino al numero 200 e poi basta. Non ha senso continuare così. Ci apri? E beh, sono nel laboratorio di Gabri. Ah no, l'ho sbagliato. Sono nel laboratorio di lui. Certo! Ahiaiai! 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 Grazie a tutti. Faccio il video signora, non è che mi deve investire, forse non sa con chi sta parlando. Bene, siamo al quarto giorno di lavoro, le mie condizioni fisiche sembra che stiano migliorando, però sono ancora spaccatissimo. Spero di recuperare questo weekend perché avremo ancora domani, poi sabato e domenica stop, c'è dell'idea. E poi facciamo ancora tre giorni qua per finire il lavoretto. Allora, sono all'arena. Allora, siamo a venerdì, ultimo giorno della settimana. E sto picchiettando tutta questa parete per togliere tutto quello che potrebbe cadere col vento e le interperie, in modo che sia messo in sicura. Sto lavorando con due funi. Ma che bravo Iettino che impara le cose grazie a Mastro Gino. No, sono gasato, gasato. E stare qua a picchiettare, entro in modalità meditazione, quindi penso, costruisco idee nuove. Bene, bene, molto bene. E faccio la fine del video. Direi che per questo video è tutto, tuttissimo. Rimanete sintonizzati perché c'è ancora qualcosa da raccontare. Ci vediamo presto, prestissimo. Statemi bene. ciao